la rivincita scena prima il signor de garel è solo sprofondato in una poltrona de garel eccomi a cannes scapolo a parigi non me ne rendevo conto in viaggio è un'altra cosa in fede mia non me ne lamento e mia moglie si è rimaritata è felice il mio successore più felice di me che imbecille deve essere per averla sposata dopo di me a conti fatti io non sono stato meno stupido avendola sposata per primo aveva doti tuttavia doti fisiche considerevoli ma anche gravi magagne morali che astuta e che bugiarda e che civetta e che ammagliatrice per quelli che non l'avevano sposata ero becco pertanto che tortura doversi domandare questo dalla mattina alla sera senza avere una risposta sicura quanta strada ho fatto per spiarla senza scoprir nulla in tutti i casi se ero becco ora non lo sarei più grazie a nachè come è facile come è facile non di meno il divorzio mi è costato uno scudiscio di dieci franchi e un indolenzimento al braccio destro senza contare il piacere di picchiare di gusto e come volevo una donna di cui sospettavo il tradimento che botte che botte che botte salza ridendo e fa qualche passo poi si risiede è vero che la sentenza è stata pronunciata a suo favore e contro di me ma che botte ora io passerò l'inverno nel mezzogiorno da scapolone che fortuna non è bello forse viaggiare con l'eterna speranza dell'amore passeggero che incontrerò in questo albergo fra poco in giardino o forse per strada dov'è colei che mammerà domani e che io amerò come saranno i suoi occhi le sue labbra i suoi capelli il suo sorriso come sarà la prima donna che mi offrirà la sua bocca e che stringerò fra le braccia bruna o bionda alta o piccola allegra o seria grassa o sarà grassa o come compiango quelli che non conoscono più la squisita bellezza dell'attesa la vera donna che io amerò è la sconosciuta la sperata la desiderata colei che anima il mio cuore senza che i miei occhi ne abbiano visto la forma e la cui seduzione è accresciuta da tutte le perfezioni sognate dov'è in questo albergo dietro questa porta in una delle camere di questa casa vicinissima o ancora lontana che importa pur che io la desideri pur che io sia certo di incontrarla e la incontrerò certamente oggi o domani in questa settimana o nella successiva presto o tardi bisogna che la trovi e godrò pienamente la gioia deliziosa del primo bacio delle prime carezze tutta l'ebbrezza delle scoperte amorose tutto il mistero dell'inesplorato che nei primi giorni è seducente come una verginità conquistata ah imbecilli coloro che si sposano poiché quei veli non bisogna alzarli troppo spesso sullo stesso spettacolo una donna elegante fine dal personale armonioso attraversa il fondo del viale perbacco ha un bel personale e una bella andatura cerchiamo di vederne il viso la donna passa vicino a lui senza vederlo affondato nella sua poltrona e gli mormora carpo d'un cane è mia moglie mia moglie o piuttosto la moglie di Chantevé eppure è graziosa quella briccone vorrà forse respingerla ora bene si è seduta e ha preso in mano il gilbal facciamo conto di nulla mia moglie che effetto bizzarro mi fa mia moglie però è un anno più di un anno che non è più mia moglie sì aveva doti fisiche notevoli che gambe ha brividi soltanto a pensarvi e un petto di magnifica fattura nei primi tempi giocavamo a far gli esercizi sinistro destro sinistro destro sinistro destro equivalevano ma che difetti morali ha avuto amanti ho sofferto di questo dubbio ora perbacco ciao non mi riguarda più non l'ho mai visto una donna più seducente di lei quando andava a letto aveva un certo modo di saltare sul letto o di scivolare tra le lenzuola bene ridiventerò il suo amante se le parlassi ma che le dirò griderebbe aiuto per via di quelle scudiciate che botte forse uno stato un po' brutale se le parlassi sarà una cosa bizzarra e soprattutto temeraria perbacco sì ne parlerò e se sarò veramente energico vedremo scena seconda De Garel avvicinandosi alla giovane donna che legge attentamente il gilblà con voce dolce mi permettete signora di rammentarvi a voi la signora di Chantevé alza improvvisamente la testa getta un grido e vuol fuggire egli le sbarra il passo e umilmente avete nulla da temere signora non sono più vostro marito ah voi osate dopo dopo quello che è successo oso e non oso infine spiegate questo atto come volete quando vi ho vista m'è stato impossibile non venire a parlarvi spero che questo scherzo sia finito non è vero non è uno scherzo signora una scommessa allora a meno che non sia una semplice insolenza altra parte un uomo che picchia una donna è capace di tutto siete cattiva signora non dovreste mi pare rimproverarmi oggi un impulso di collera di cui peraltro mi pento aspettavo invece lo confesso ringraziamenti da parte vostra siete pazzo oppure vi burlate di me come un villanzone qualunque no signora e per non capirvi bisogna che voi siate molto infelice che volete dire che se foste felice con colui che ha preso il mio posto mi sareste riconoscente della violenza che vi ha permesso la nuova unione spingete lo scherzo un po' troppo oltre signore lasciatemi sola tuttavia signora pensateci se io non avessi commesso l'infamia di picchiarvi noi trascineremmo ancora oggi la nostra catena il fatto è che voi mi avete reso un servizio molto doloroso non è vero un servizio che merita qualcosa di meglio della vostra accoglienza di poco fa sarà ma il vostro viso mi è sgradito non dirò altrettanto del vostro la vostra galanteria non mi piace come la vostra brutalità che volete signora non ho più il diritto di battervi bisogna pure che sia cortese ora almeno siete sincero ma se volete essere proprio gentile dovete andarvene non spingo ancora tanto lontano il desiderio di piacervi allora che pretendete riparare i miei torti ammettendo che ne abbia avuti come ammettendo che ne abbia avuti ma siete pazzo ma avete caricato di botte e trovate che forse vi siete comportato come nel miglior modo possibile forse come forse sì signora conoscete la commedia dal titolo il marito becco bastonato e contento ebbene io sono stato o non sono stato becco tutto è qui e in tutti i casi siete voi ad essere stata picchiata e a non essere stata contenta signore voi mi insultate ve ne prego ascoltatemi un minuto ero geloso molto geloso e ciò prova che vi amavo vi ho picchiata e ciò lo prova ancora di più e picchiata forte e ciò lo prova senza ombra di dubbio ora se voi siete stata fedele e picchiata siete da compiangere veramente lo confesso e non mi compiangete che cosa intendete dire la vostra risposta si può interpretare in due modi o voi disprezzate la mia pietà o essa è meritata vuol dire che le botte le sversate violente che avevate ricevute da me erano più che meritate prendetela come volete bene comprendo dunque con voi signora ero un marito becco non dico questo lo lasciate capire lascio capire che non voglio la vostra pietà non facciamo giochi di parole e confessatemi francamente che ero non pronunciate questa parola infame che mi rivolta e mi disgusta allora vi compiango di tutto cuore e la proposta che volevo farvi non ha più ragione d'essere quale proposta è inutile dirvela perché solo nel caso che mi abbiate ingannata essa ha valore ebbene ammettete per un momento che vi abbia tradito ciò non basta mi occorre una confessione lo confesso non mi basta mi ci vogliono alcune prove domandate troppo infine no signora stavo per farvi come avevo detto una proposta grave molto grave sante di che io non sarei venuto a trovarvi a così poca distanza da quello che è successo tra noi quello che avete fatto voi a me prima io a voi dopo questa proposta che può aver per noi due le più serie conseguenze sarebbe senza valore se voi non m'aveste tradito siete magnifico ma volete di più vi ho tradito ecco mi occorrono le prove ma che prove volete che vi dia non ne ho su di me o piuttosto non ne ho più poco importa dove siano mi occorrono ma non si possono osservare prove di queste cose a meno di essere a meno di essere sorpresi in flagrante delitto mi pare che la mia parola potrebbe bastarvi allora siete pronte a giurarlo lo giuro vi credo signora e con chi mi avete ingannato oh ma voi domandate troppo insomma è indispensabile che io sappia il suo nome ma è impossibile dirvelo perché perché sono una donna sposata ebbene è un segreto professionale è giusto l'altra parte è col signor de Chantevé che vi ho tradito non è vero perché perché non vi avrebbe sposata insolente e questa proposta eccola avete ora la confessato che io in grazia vostra sono stato uno di quegli esseri ridicoli sempre scherniti qualunque cosa facciano ridicoli se tacciono e più grotteschi ancora se soffendono che si chiamano mariti traditi ebbene signora è indubitabile che i colpi di scudiscio che avete ricevuti sono ben lontani dal compensare l'oltraggio e il danno coniugale causatomi dal vostro modo di agire ed è non meno dubbio che voi mi dovete un compenso più serio ed altra natura ora che non sono più vostro marito perdete la testa mi pare che volete dire voglio dire signora che dovete rendermi ora le ore incantevoli che mi avete rubate quando ero vostro marito per offrirle a non so chi siete pazzo per nulla il vostro amore mi apparteneva non è vero i vostri baci dovevano essere per me tutti i vostri baci senza eccezione è vero voi ne avete dispensati in parte a beneficio di un altro ebbene quello che importa che mi importa è che la restituzione avvenga restituzione senza scandalo restituzione segreta come si fa per i furti ignominiosi ma per chi mi prendete per la moglie del signor Chantevé questa ad esempio è troppo forte scusate colui che mi ha ingannato va pur presa come moglie del signor de Garael è giusto che venga anche il mio turno quello che è troppo forte è il rifiuto di rendere ciò che mi è legittimamente dovuto se io dicessi di sì voi potreste ma certamente e allora a chi sarebbe servito il divorzio a ravvivare il nostro amore non mi avete mai amata tuttavia ve ne dà una buona prova quale come quale quando un uomo è così pazzo da proporre a una donna di sposarla da prima e di diventare la sua amante dopo ciò prova che gli l'ama o io non mi intendo per nulla d'amore ma non facciamo confusioni sposare una donna dimostra l'amore o il desiderio ma prenderla per amante non dimostra che il disprezzo nel primo caso si accettano tutto il peso tutte le noie e tutte le responsabilità dell'amore nel secondo caso si lascia questo fardello al legittimo proprietario e non si serva per sé che il piacere con la facoltà di sparire il giorno in cui la persona ha cessato di piacere c'è una bella differenza mia cara amica ragionate molto male quando un uomo ama una donna non dovrebbe sposarla perché sposandola è sicuro di essere tradito come avete fatto voi con me la prova è qui mentre è indiscutibile che un amante resta fedele al suo amante con tutto l'ardore che la mette nell'ingannare il marito non è vero se volete che tra una donna e voi nasca un legame indissolubile fatela sposare ad un altro il matrimonio non è che una funicella che si può spezzare quando si vuole e diventate l'amante di quella donna l'amore libero è una catena che non si spezza noi abbiamo strappato la funicella ora vi offro la catena siete buffo ma io rifiuto allora avvertirò il signor decente ve lo avvertirete di che vi dirò che voi mi avete tradito che vi ho tradito sì quando eravate mia moglie ebbene ebbene non ve lo perdonerà mai lui perbacco non è una cosa che può rassicurarlo non fate questo ricatto Henry mio marito addio vi accompagnerò da lui e mi presenterò non fatelo vedrete ve ne prego allora accettate la catena Matilde lasciatemi vi rivedrò qui stasera dopo cena vi amo e la fugge il signor de garè si volge dolcemente verso la poltrona e vi si lascia cadere dentro ebbene mi piace di più questa parte della precedente ed ella è bella proprio bella è ancor più affascinante da che ho sentito la voce del signor de chantevé chiamarla Matilde con quel tono di padroni che hanno tutti i mariti con quel tono di che ho sentito Grazie a tutti